A due giorni dal primo voto sulla decadenza di Berlusconi, il clima di scontro frontale fra le forze di maggioranza non accenna a calmarsi. PD e PDL continuano ad accusarsi a vicenda della responsabilità di un'eventuale crisi di governo. L'ultimo scontro si è consumato ieri fra Guglielmo Epifani e Renato Schifani. Chi stacca la spina all'esecutivo la stacca al paese, avverte il segretario democratico. È il PD che vuole la crisi di governo per andare alle elezioni controbatte il capogruppo PDL al Senato, che però si trova d'accordo con Epifani sul fatto che il voto sarebbe un barato per il paese. Ad aumentare ulteriormente le tensioni ci si mette anche la polemica sul voto segreto, o palese, con cui i senatori saranno chiamati ad esprimersi quando la decadenza di Berlusconi arriverà nell'aula di Palazzo Madama, con il PDL che continua a chiedere la segretezza dell'urna, mentre il PD è pronto a sostenere, insieme alla Lega, Selle e Udc, la proposta del Movimento 5 Stelle, che in nome della trasparenza presenterà domani una richiesta di modifica del regolamento per votare in modo palese. I toni accesi non riguardano solo PD e PDL, anche sul fronte PD Movimento 5 Stelle il clima si surriscalda, con Grillo che lancia l'affondo dal suo blog, accusando i democratici di voler salvare l'ex premier in caso di voto segreto. Nonostante l'aria pesantissima, il PDL, almeno per ora, sembra aver sotterrato l'ascia di guerra. Mentre Maurizio Gasparri chiede l'intervento del capo dello Stato, si moltiplicano gli appelli per un confronto aperto e costruttivo, che non mandi tutto a gamba all'aria. Il Cavaliere, nelle ultime ore, ma nelle prossime potrebbe anche cambiare idea, sembra essersi convinto che la strada della cautela e della difesa dell'argentese sia la migliore da seguire. Complici anche i sondaggi e il timore per i mercati, che in caso di crisi potrebbero farla pagare cara al Paese e soprattutto alle aziende di famiglia. Tanto, comunque vada, Berlusconi continuerà a fare politica. Congelato per ora il ritiro dei ministri del PDL, il Cavaliere dovrebbe tornare in settimana a Roma per una riunione con i vertici del partito, forse giovedì o venerdì, nella nuova sede di Piazza San Lorenzo in Lucina, e per diffondere un videomessaggio al Paese, per ribadire la persecuzione giudiziaria e per annunciare la rinascita di Forza Italia, che dovrebbe sancire anche la pacificazione fra Falca e Colombe. Ai primi, Berlusconi avrebbe infatti deciso di affidare la gestione del partito, dovrebbero però tenersi a distanza degli affari di governo, prerogativa delle sole Colombe.